La vedete? Sì, la vedete? Come stai? Benvenuti, 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 ormai la so, ogni domenica. Ogni domenica sei qua? Che bello, brava. E vi stiamo offrendo questo bellissimo calice, questo bellissimo calice di champagne. Ecco, ora coche la nostra Veronica, benvenuta, benvenuta allo Smilers, a patatata, grazie. Ora co, vieni un po' qui al sole, mi reggi qua un attimo al mofo, perfetto. Sei in buio lì Veronica, vieni. Vieni qui Veronica, vieni. Tutto è venuto per Veronica, Alberto, fin da Sassari, penso a questo mio amico, fin da Sassari, sapendo che tu c'eri qui, ti rendi conto? A bicchiere no, lei è quella che cura l'immagine? Bene, allora, se non è giusto. Allora, Alberto, penso a questo ragazzo, è venuto a posto da Sassari, sapendo che tu vieni qui. Alberto, Alberto, perché qui non ci perdono puntate con il grande fratello? Forse farai la versione dell'isola dei non famosi, ma Alberto, eh? Tu canti un po', canti Battisti, lo canti Battisti, lo canti Battisti, lo canti. No, io non lo canti. Meglio che non canti. Bravo, non vedi, a te basta guardare, se già stessi, stessi, stessi. Complimenti a nostro Veronica, facciamo un po' la parola, grazie che sei qui. Grazie, grazie di... Tutte le domeniche che spiegiamo qui allo Sassari, al Budone. Sassari, ora adesso facciamo luce Battisti, vai! Sassari, ora adesso facciamo luce Battisti. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.